che è più simile a quello.f attraverso francesca r 11 giugno 2023 a cura di vb michel oggi cominciamo in modo diverso con le vostre domande a partire da te domanda voi all'inizio avete detto che avreste prodotto il fenomeno chiamato voce diretta state già lavorando per questo michel da quando l'abbiamo detto stiamo lavorando per questo domanda come mai questo fenomeno e non altri michel se si riuscirà a fare questa voce diretta potrete sentire un suono breve che è più simile a quello che produce la mia vibrazione per produrre la voce diretta serve fare quello che è il lavoro energetico il lavoro energetico è produrre energia che veicoli e giri tra di voi e che voi siate in grado di percepire e sentire le mani sono solo un inizio semplice per percepire l'energia avete prodotto più energia con la vostra allegria che con le vostre mani per percepire l'energia prodotta da una vibrazione di un qualcosa che passa attraverso un suono che voi siete in grado di emettere dovete iniziare a percepirvi se non siete in grado di percepirvi non potete indirizzare il suono che viene da voi a livello utile e non c'è maggiore utilità del suono di una risata perché la vibrazione che viene prodotta dal suono della risata è paragonabile e avvicinabile alla sfumatura della vibrazione dell'amore che cos'è la sfumatura della vibrazione dell'amore anzi che cos'è la vibrazione dell'amore la vibrazione dell'amore è la vibrazione dell'essere quindi di ciò che è e la risata quando nasce dal corpo non solo fisico ma da tutto il corpo che arriva fino alla coscienza che vi caratterizza si propaga e si trasmette come un'onda per quello che è quindi è una sfumatura molto vicina alla stessa vibrazione contenuta e presente nell'essere potreste obiettare che tutte le parole e tutti i suoni emessi siano sfumature dell'essere perché vengono e sono contenuti e potrei aggiungere che così è ma la risata è più vicina al significato di amore della percettibilità di quello che è il significato profondo dello stato vibratorio dell'amore voi conoscete che lo stato vibratorio dell'amore è la pace la gioia la felicità la serenità la risata si avvicina a portarvi a quello stato e quindi a essere rappresentare esattamente la sfumatura vibrazionale dell'amore l'amore che cos'è l'amore è essere perché è conoscenza e non conoscenza e racchiude il tutto e quindi è il cosiddetto capolinea non di arrivo ma di essere cioè l'essenza stessa dell'essere vi è chiaro è un'esercizio